cosa abbiamo capito da questi mondiali 2023 di ciclocross senza ombra di dubbio sono due fenomeni Van Aert e Van Der Poel ma Wout Van Aert indubbiamente soffre 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 Mattia e Van Der Poel quando conta e quando sono loro due 9 volte su 10 vince sempre Mattia e Van Der Poel